Io ho trovato della libertà in Bitcoin e quindi ho detto devo fare qualcosa per aiutare Bitcoin. Ciao amici, vi è mai capitato di voler proteggere i dati dei vostri acquisti online senza riuscirci? Vi è mai capitato di non voler condividere l'indirizzo di casa o chi siete per poi abbandonare perché è troppo complesso? L'intervista di oggi è proprio la soluzione a questi problemi. Ho parlato con Zio Satoshi, il creatore di Bitpost, un servizio 100% italiano che permette di acquistare online in massima privacy. Con Zio Satoshi abbiamo parlato di come funziona questo servizio, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi e in che modo Bitcoin è coinvolto in tutto questo. Io sono Fabio, autore di Checkpoint Bitcoin, un progetto divulgativo focalizzato interamente su Bitcoin. Quindi, se vi interessano i contenuti su questo argomento, iscrivetevi al canale. Con questo è tutto, buona intervista! Ciao Zio Satoshi e benvenuto su Checkpoint Bitcoin. Ciao Fabio, grazie mille dell'invito e ciao a tutti. Dunque, questa intervista andiamo ad esplorare il servizio Bitpost, che è un servizio che io non ho mai capito. Non te l'avevo detta questa cosa, ma io questo servizio non l'ho mai capito, non ho ben chiaro cosa fate. Tra l'altro, mi ricordo che avevo chiesto a un altro Bitcoiner cosa fa Bitpost e non mi ha saputo rispondere. Allora ho pensato, forse è il caso di fare un'intervista e quindi eccoci qua. Oggi andremo quindi ad esplorare un pochino il servizio Bitpost, in che modo agevola la privacy dell'utente. Com'è che è nata l'idea di fare Bitpost? Cioè, cosa ti ha ispirato? Allora, è nato dal fatto di ricambiare a Bitcoin quello che mi è stato dato. Io ho trovato della libertà in Bitcoin e quindi ho detto, devo fare qualcosa per aiutare Bitcoin. È come un ripagare, un ripagare di questa tecnologia, di questo dono che ci è stato dato. Tutto è nato guardando Telegram, guardando i mercatini. I mercatini, come spesso sai, ci sono dei gruppi di scambio e la cosa che è sempre, sempre scritta è spedizione a carico del destinatario, spedizione a carico del mittente. Io l'ho vista come un po' una palla bollente, come qualcosa di rimbalzarsi, di scomodo, no? L'ho visto come un problema, chiamiamolo, anche se non lo è, però è una cosa scomoda. Quindi ho detto, prendo io in carico un altro tipo di servizio dove io faccio l'etichetta e la gente non deve più smazzarsi queste spedizioni, preparo la lettera di vettura, si chiama così in termine tecnico, la consegno al mittente e la persona non deve fare nient'altro che attaccare la sua etichetta e spedizione a dire il pacco. Tutto nasce da questo. Infatti Bitpost non era Bitpost, ma era intermediazione postale. Nasce come esperienza di spedizioni in privacy, pagate in Bitcoin. Quindi Bitpost è un percorso, ad oggi è un servizio di acquisto e spedizioni in privacy. Ok, quindi Bitpost è un servizio con cui le persone che vogliono acquistare o vendere qualcosa possono farlo semplificandosi la vita con il tuo servizio di intermediazione postale. Cioè tu ti metti in mezzo a due persone che vogliono vendere o comprare. Ho capito o non ho capito? No, adesso ti spesso bene. No, non hai capito? Spiegaci cos'è Bitpost. Allora, spiegaci cos'è Bitpost. L'importanza di fare questa intervista, non l'avevo capito, continuo a non capirlo. No, è semplice, è semplice. Adesso cerco di spiegarti, mi dilungo un attimo, ma per farti arretarti, dirti che cosa faccio e cosa... Ora, Bitpost è un servizio di acquisto e spedizioni dei medesimi articoli acquistati dall'utente in privacy. Quindi che cosa significa? Significa che io acquisto per l'utente, quindi stacco l'utente dagli acquisti sugli e-commerce, non mi dà dati, quindi lo tutelo da un punto di vista di dati, la merce arriva a me, dopodiché io la spedisco tramite dei locker alla persona che mi ha chiesto questo articolo. Capito? Quindi effettivamente mantengo privacy dall'acquisto alla spedizione. Prima facevo le spedizioni per privati, quindi da un punto A a un punto B. Io non sapevo però cosa c'era all'interno di questi pacchi e questo era molto rischioso per me, però ho voluto comunque rischiare per vedere se il servizio fungeva e dopodiché veniva spedito questo pacco. Adesso per tutelarmi ho detto basta fare spedizioni tra privati. Ho finito, acquisto io... Per la gente, quindi so che cosa acquistano e glielo spedisco in privacy. Ecco dove è stato il cambiamento che mi ha fatto far sì di crearmi un'attività sicura, cioè sapendo che cosa acquisto per le persone. Ok, quindi te fai sia l'intermediazione tra le due parti che l'acquisto per conto di qualcun altro, giusto? Le due parti sono io, io e l'utente, non sono più privati. Il privato mi contatta e mi dice mi serve questa cosa su Amazon, mi serve questa cosa su Ebay, mi serve questa cosa su qualunque commerce e io sono una VPN dei sui acquisti. Una VPN? Sfrutta me come intermediario per acquistare i suoi articoli. Questo quindi non vale solo per il mondo Bitcoin, ma vale in generale per qualsiasi articolo online per cui qualcuno voglia, per qualche motivo, avere più privacy. Perché la privacy... Intanto, chiariamo questa cosa, in che modo l'utente guadagna privacy con il tuo servizio? È proprio il fulcro portante di Bitpost, è proprio la privacy. Guadagna privacy perché l'utente non deve fornirmi dei dati, l'utente mi deve solamente fornire un link, mettiamo da Telegram in questo caso, più avanti sarà dalla piattaforma, mi dice mi serve questo paio di scarpe. Io quindi acquisto, sono io che metto i miei dati come Bitpost, come azienda all'interno del sito, acquisto l'oggetto, quando mi arriva glielo spedisco, dove però mi dirai? Perché dovrà darti un indirizzo, dovrà darti un qualcosa. Non mi dà nulla, in verità, mi dà un CAP e una località, che potrebbe essere quella del suo paese, oppure quella più vicino al suo paese, dipende, è soggettiva la cosa, no? Con questo CAP e questa località, ricerco tutti i punti di ritiro nella sua zona. Lui ne sceglierà uno perché vedrà che ne conoscerà qualcuno, essendo che è di quella zona lì, mi dirà, perfetto, inviammelo all'Esse Lunga perché so che c'è un punto di ritiro. Io gli inserisco l'Esse Lunga e gli spedisco il pacco. Quindi lui va a ritirare il suo pacco e a me non ha fornito un dato. Quindi te praticamente ricevi dall'utente la richiesta di acquistare qualcosa, gliela compri tu e poi gliela spedisci al punto di ritiro scelto dall'utente. Quindi il vantaggio in termini di privacy è che l'utente non interagisce con l'e-commerce del caso, ma interagisce direttamente con te. Che già è un guadagno in termini di privacy, però visto che ti chiami Bitpost, immagino che in qualche modo Bitcoin sarà coinvolto in tutto questo. Ce lo vuoi spiegare? Certo, Bitcoin è il metodo principale di pagamento. Bitcoin è una tecnologia che ci consente di scambiarci valore senza doverci dare dei dati bancari, senza doverci dire chi siamo, senza scambiarci la carta d'identità, diciamo. Quindi Bitcoin è proprio il metodo di pagamento principale. E una volta che mi vengono pagate le etichette, è per questo che serve Bitcoin, per pagare le etichette di spedizione, per pagare gli articoli richiesti, sono io che creo l'etichetta, l'attacco sul pacco in maniera in privacy. Cosa significa in privacy? Che i dati che mi fornirà l'utente saranno fittizi. Quindi tu ti chiami Fabio, potresti dirmi che ti chiami Luigi Pierangela, non lo so. Io metto Luigi Pierangela, inserisco il tuo locker di riferimento o il tuo punto di ritiro, potrebbe essere un tabacchino o rifiducia. Quando vai a ritirare il pacco dirai, ho un pacco nome, Fabio Pierangela, non mi ricordo neanche il nome cosa ti avevo detto, però per dirti il nome che tu hai scelto. Luigi, perfetto, Luigi Pierangela. Basta. Il gioco è molto semplice, non c'è nulla di difficile effettivamente. Bitcoin è il metodo di pagamento e sono io che dopo acquisto e mi espongo con tutti i miei dati alle piattaforme e al sito di spedizioni. Ok, è interessante perché tu sfrutti una proprietà di Bitcoin per far guadagnare privacy. Cioè, il bello di questo servizio, secondo me, è che mostra un aspetto creativo con cui si può usare Bitcoin. Perché quando uno pensa a fare impresa con Bitcoin, pensa a fare impresa o una startup utilizzando Bitcoin, lavorando sul protocollo e cose così. Invece, quello che stai facendo tu è utilizzare una caratteristica di Bitcoin, in questo caso il pagamento in privacy, per fornire un servizio correlato. Ok, quindi questo secondo me è una cosa molto interessante che può dare anche spunti a chi magari ci ascolta per quello che è un Bitcoin business. Ok, tornando al discorso, tu usi Bitcoin e quindi chi interagisce con te, però, avrà dei trade-off. Nel senso che, ok, io non interagisco con l'e-commerce, ok, non devo mettere i miei dati della carta, il mio indirizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Però interagisco con te, no? Quindi tu, quali dati riesci a cogliere dell'utente? Se ci sono dei dati, riesci a capire qualcosa? Il trade-off. Mi fa sorridere perché effettivamente, e ti spiego perché, e ti spiego anche perché, mi fa sorridere questa domanda, perché effettivamente sono riuscito a trovare un modo per non farmi dare neanche un dato. Cioè possiamo arrivare anche a non farci dare la mail, persino a non usare Telegram, più avanti, appena esce la piattaforma. E adesso ti spiego quali sono però i trade-off. Gioco di prestigio, hai cambiato location, però eravamo rimasti sui trade-off, quindi quali sono i trade-off dell'utente e quali dati espone? Allora, a livello di trade-off posso dirti che non sono sicuramente i dati, perché l'utente ha la facoltà di scegliere se darli fino ad arrivare al punto di non dare neanche un dato. Persino anche Telegram arriveremo a togliere, ok, quando ci sarà la piattaforma. In questo momento qua l'unico dato richiesto, se uno proprio esagera, è l'handle di Telegram. Quindi diciamo che siamo protetti da questo punto di vista. Al momento il servizio è soltanto su Telegram, cioè uno deve scrivere a Bitpost e poi da lì ci sono tutta una serie di procedure per fare la spedizione. Però è tutto molto intuitivo, quindi non c'è neanche bisogno di spiegarlo. Bisogna cliccare dei bottoni su Telegram e va tutto in automatico. Però al momento è solo su Telegram, ma come dici tu, fra poco ci sarà una piattaforma e poi lì l'utente si libera di ogni dato che potrebbe fornire. Quindi te lo dici trade-off, non ce ne sono. Come no, ci sono, potrebbe essere la commissione d'acquisto. La commissione? Quello lì però dipende anche dall'utente, perché effettivamente la commissione d'acquisto, che è dell'8%, per ogni articolo che quella persona compra, devi anche capire che in verità tu hai la privacy dell'altra parte. Quindi non è proprio un trade-off, è ovvio che ci sia un costo in più da quel punto di vista. Aspetta, commissione della transazione o commissione che è legata all'acquisto con Bitpost? Legata proprio alla, diciamo, chiamiamola alla commissione che aspetta a me come guadagno per fatti questo servizio. Ok, ok. Il costo del servizio, perché ovviamente questo servizio per mantenersi deve essere approfittabile in qualche modo. Non è che sei una onlus, c'è il costo del servizio dell'8% sul prodotto acquistato, ok? Più la commissione, però quello lì ovviamente... E questo è per tutelare i tuoi dati. Esatto. Che poi c'è da dire che uno magari già ha il tuo 8%, però se uno acquista Bitcoin su una piattaforma senza che così o in forma privata, quei Bitcoin costano sempre di più di Bitcoin acquistati su un exchange, perché la differenza la fa proprio la privacy. Cioè, uno potrebbe pensare che la privacy costa di più, ma se uno gira il punto di vista, in realtà è che sono i Bitcoin sull'exchange che costano di meno perché stai cedendo i tuoi dati, ok? Quindi in parte li paghi con i tuoi dati, proprio come Facebook è gratuito, non è che è gratuito, è che paghi con i dati e così via. Quindi, ok, abbiamo fatto il punto qui sui trade-off. Il trade-off è il costo, ce ne sono altri che ti devi andare a prendere il pacco al punto postale. Sì, ci può essere il tempo di ricezione del pacco, perché se tu compri su Amazon, ti arriva il giorno dopo. Se io acquisto su Amazon con il Prime, arriva a me, dopo devo spedirlo a te. Ci sarà il costo di spedizione per ricevere in privacy. Quindi sceglierai se avere una spedizione in privacy oppure una spedizione in full privacy. Sono due tipi di spedizione che mi sono inventato. Una è quella in privacy, dove una persona mi dà solamente la mail. Io gli faccio arrivare tutti i dati della spedizione alla sua mail. Quindi è l'unica cosa che lo collega al suo acquisto e alla sua spedizione. Se una persona non vuole neanche darmi un dato, quindi dice non voglio saperne niente, non voglio darti neanche una mail proton, niente, inserisco i miei dati sia come emittente, sia come destinatario. Questo mi dà un lavoro in più a me. Infatti costa un po' di più anche la spedizione, perché devo gestire anche i codici di ritiro. E non devo sbagliare dopo a fornirli ai vari utenti. Perché finalmente ci sono più persone che fanno spedizioni in full privacy. Quindi un codice devo sicuramente collegarlo a un urgente e un altro a un altro. E poi fornirli tramite Telegram. Ok, abbiamo visto i trade-off. Secondo te, in quali circostanze andrebbe utilizzato il tuo servizio? Magari mi dirai sempre. Io non ho mai... No, però secondo te quando è che andrebbe usato il tuo servizio perché è particolarmente utile? Ok, grazie per la domanda perché è molto interessante. Secondo il mio punto di vista, da cliente ti parlo, come se dovessi acquistare io, sicuramente per tutti quegli articoli, che infatti sono quelli che vanno di più adesso per la maggiore, di detenzione di bitcoin. Quindi hardware wallet, telefonini privacy oriented, quindi deguglizzati, oppure potrebbero essere articoli per adulti. Anche questo è una cosa che ancora non ho notato, però secondo me sarà un po' nel futuro di Bitpost. Perché Bitpost, esco un attimino ma per farti capire quello che sto dicendo, e dà la possibilità anche di pagare in euro. Quindi andrà a prendere anche una fetta di utenza che non conosce a bitcoin, ma che però ha bisogno di privacy. Ok, quindi potrebbero essere... Gli articoli sono soggettivi, potrebbero essere anche dovuti a problemi in famiglia, che uno non vuole far vedere cosa compra con la sua carta di credito e si appoggia a Bitpost. Quindi è molto soggettivo. Sicuramente tutti quegli articoli dove devi mantenere una certa riservatezza, perché sono articoli o intimi o di tua propria età, che ti serve non far sapere. Sì, Bitpost si mette bene laddove la privacy magari proprio ti serve, non è una cosa che la fai per uno sfizio personale, ma è proprio utile. E uno potrebbe chiedere perché mi serve quando compro un hardware wallet, e questa è una cosa che secondo me va spiegata perché per molte persone ancora non è chiaro, ma quando uno acquista l'hardware wallet e se lo fa mandare a casa, praticamente sta creando un collegamento tra sé e l'hardware wallet. Che vedi il caso del leak ledger, se poi l'azienda da cui si acquista l'hardware wallet viene bucata, come è già successo appunto a ledger, a quel punto si crea un collegamento tra l'utente che ha acquistato e l'hardware wallet, che già fa capire che uno ha abbastanza fondi, per così dire, da voler un hardware wallet. Ok, quindi questo secondo me è importante sottolinearlo, perciò se decidete di acquistare hardware wallet, cosa che vi invito a fare, fatelo poi con Zio Satoshi. Questo qui che è sempre stato un grande problema, come acquistare un hardware wallet in privacy, è risolto. In Italia possiamo dire che è risolto, grazie a Zio Satoshi. Esatto, questo si è proprio risolto, anche, aggiungerei una cosa, anche perché l'azienda che ti sta fornendo l'hardware wallet ha i tuoi dati, quindi si sa che tu stai ritenendo Bitcoin, potrebbe venderli anche questi dati qua. Io in questo caso qua mi sono doxato, ma ormai ne ho acquistati talmente tanti che sanno che non sono per me. Quindi anche se vi ho acquistato il mio nome, ne avrò acquistati non so quanti, non dico il numero, ma parecchi direvo dire. Quali sono gli hardware wallet che vanno per la maggiore? Facciamo un'indagine di mercato. Allora, in questo momento sono i coin card di CoinKit, che sono degli articoli che arrivano dal Canada. I cold card arrivando dal Canada c'è anche il costo della dogana, quindi l'utente che compra questo cold card con Zio Satoshi non solo è molto attento alla sicurezza dei suoi Bitcoin, ma anche molto attento alla sua privacy, quindi c'è un sacco di, come dire, di cypherpunk che ti seguono. Esatto, fai conto che la dogana è veramente, ti fanno una lastra quando acquisti. La dogana ti chiede di tutto, il codice fiscale, c'è veramente, c'è ogni tipo di dato. Quindi questi qua sono articoli più richiesti anche per questo secondo me, perché c'è quella cosa ancora in più che viene richiesta a livello di dati personali. Una cosa, una parentesi che vorrei fare, ecco, per acquisti extraeuropei, per qualcuno che volesse mai comprare un articolo fuori dall'Europa, ho dovuto alzare le commissioni, ti dico, al 15%, che non è pochissimo, ma perché il tempo che porta via, se c'è un problema, è veramente tantissimo. Mi è successo, è per questo che ho dovuto fare questo cambiamento, perché se il pacco si ferma, c'è un'interazione costante con la dogana. E questa cosa qua fa perdere un sacco di tempo. Io come impresa devo ovviamente far pagare il tempo che utilizzo, no? Certo. Anche se poi vogliamo vedere, se proprio dopo vedere il lato positivo della cosa, devi starci dietro. Però il lato positivo cos'è? È vero che tu spendi il 15% per un call card che già costa, però è anche vero che tu lo acquisti solo una volta. Tu una volta che hai acquistato il call card, invece di pagarmi 200, l'hai pagato 230, non sei morto di fame, si può dire, però ti sei preso un articolo in tuo possesso, in piena proprietà, senza divulgare un dato. Quindi secondo me li vale tutti. Io stesso da cliente ti dico, le commissioni che scelgo, sto molto attento a scegliere, perché dico, ne varrebbe la pena. Se fosse un acquisto giornaliero, ti dico no, non lo userebbe nessuno il mio servizio. Beh, siccome lo fai una volta e lo farai tra 3-4 anni, la prossima, quei 30 euro sono spesi bene per la tua privacy. Ok. Fuori da Bitcoin ci sono acquisti ricorrenti che hai notato? Sì, stanno aumentando e questa è una cosa che mi fa piacerissimo perché pensavo fosse più adatto, e lo è tuttora, ad articoli basati su Bitcoin, ma il fulcro e il core business di Bitpost non vuole essere questo per il futuro, ma vuole essere proprio un inglobatore di e-commerce. Quindi qualunque cosa le persone hanno bisogno di acquistare, e qua entriamo nell'altro servizio che sto offrendo a quelli che utilizzeranno anche euro. Faccio veramente un mix bello adesso e te lo spiego. Bitpost è per la privacy ad oggi e per Bitcoin. Ok. Però, se ci pensi bene, se tu ti iscriverai a Bitpost nella piattaforma, non dovrai più avere account in altre piattaforme. Quindi non dovrai più avere mille password, non dovrai più avere mille carte collegate, quindi avere dato mille dati, inconsapevolmente un po' a tutti, perché avrai solo una piattaforma di riferimento per acquistare dove vuoi. E io dico sempre, per farti un paragone, un parallelismo, che Google, che è conosciutissimo, ovviamente sapete tutti chi è, sta alla ricerca come Bitpost vorrà stare agli acquisti. Vuole essere la piattaforma di riferimento, un inglobatore di e-commerce. Capito? Quindi avrai solo una piattaforma e acquisterai dove vuoi. Chi acquisterà in euro, quindi sarà scudato, sarà comunque protetto, non divulgherà più dati di carte di credito. E non avrà più mille password, mille mail, mille applicazioni sul telefono, perché basterà averne una. Ok, questo è interessante. Cioè tu dici, quella piattaforma lì la userò come tramite per tutti i miei acquisti online. Esatto, per tutti i tuoi acquisti. Anche chi utilizzerà euro potrebbe essere comodo in questo. C'è tanta gente che mette stesse password, facci caso, stesse password e stesse mail. Se ne hackeri una, le hackeri tutte. Se tu mi hackeri Bitpost, hackeri sto Gavideo, perché non ci sono dati. Sto Bitpost. Sto pacco. Ma in verità non c'è niente. È tutta una vetrina di Bitpost. E questa è la figata, Fabio. È che è tutta una vetrina. È tutto un vedere, ma dentro non c'è niente. Hai capito? Sì, perché se io decido di comprare da XY, ti do il link, tu mi mandi poi l'indirizzo dove effettuare il pagamento. Fine. Non ci sono dati coinvolti. Questo è interessante. Ok, quali sono i progetti futuri di Bitpost, a parte Bitpost Prime? Spedizione in un giorno. Beh, si sta. Allora, diciamo che il core business di Bitpost, bene o male, è questo. Quindi già te l'ho un po' scillato. Cioè, uno sono gli acquisti in privacy, per chi vuole la privacy, e uno è la comodità di avere una sola piattaforma per fare tutti i tuoi acquisti. Per il futuro, voglio cominciare a inserire anche degli abbonamenti. Quindi ci sono già dei servizi in privato dove le persone fanno abbonamenti. Di tutti i tipi, però. Quindi con questo di tutti i tipi per farti capire anche abbonamenti per adulti. E qua ci si ha con il mondo. Perché effettivamente ci sono più persone che possono avere più problemi, ripeto, anche dal punto di vista familiare. Non vogliono tagliare la propria carta a un certo tipo di piattaforma, però vorrebbero. Quindi un Bitpost vuole essere anche il tramite a livello di acquisto di abbonamenti. E fornire dopo tutti gli account ai privati. E sono già in contatto con delle piattaforme molto grosse, con la quale ci devo parlare bene, per fornire questo servizio. Ok, cioè quando parli di account, cioè tu dici non la spedizione di un servizio, ma Zio Satoshi si fa l'account su OnlyFans. Per capirci, ci avrà 500 account diversi su OnlyFans. Esatto, una piattaforma è quella. Ebbè, quale poteva essere, scusami. No, ora, effettivamente sono tutti abbonamenti miei. Io posso avere anche 100 abbonamenti su OnlyFans, però do l'account proprietario dopo, diciamo, la mail che ho generato e la password all'utente. Ovviamente gliela darò quando? Quando ho staccato dopo la mia carta aziendale, perché io gli pagherò l'annualità, stacco la carta, l'abbonamento va avanti per tutto l'anno, gli fornisco i dati, gli dico, da oggi può entrare. Lui si cambia la password, fa quello che vuole, ovviamente. Scanduto l'anno mi deve ricontattare. Capito? Ok. E uno è questo. Ok, ok, questo è interessante. Uno è questo di servizio. Questo è interessante per chi... Poi se vuoi ti dico anche l'altro, che è già pronto. Se ti va, se ti va, se vuoi fare questo, è già pronto? Allora fai l'annuncio. Sì, è già pronto e ovviamente è tutta una questione di mettermi in contatto, perché ho molto un lavoro fisico che non ho tempo di fare adesso. Ho creato un bot Telegram, ok, che utilizzo per le mie partnership. Perché cosa? Ti ricordi quando ti dici che non faccio più le spedizioni tra privati? Perché la difficoltà sta nel capire cosa c'è all'interno del pacco. Uno potrebbe inviarmi un'arma, pago io la spedizione e vengono a prendere me. Però non ho voluto abbandonare al 100% questo settore, perché comunque funziona. Quindi tutte le collaborazioni che ho con persone che so che cosa fanno, do la possibilità di fare spedizioni. Quindi per delle partnership, per delle aziende, do l'opportunità di fare spedizioni in privacy. Quindi ti faccio un esempio. Io ho una partnership con Data Sapiens, che è un'azienda da oggi a tutti gli effetti di The Orange Way e di Carlo Martinuzzi. Non so se li avrà già sentiti probabilmente, sono dei bitcoiner conosciuti bene o male nell'ambito. Loro fanno i telefoni deguglizzati. Hanno un'azienda. Quindi so che spediscono questa merce. Ho un bot dedicato solo per queste persone, in una whitelist, dove loro possono crearsi l'etichetta bene o male, e possono spedire i loro telefoni in privacy. Quindi non serve che vendano tramite me. Possono tranquillamente utilizzarmi come spedizioniere, come corriere, diciamo, ok? Come facevo con i privati. E questa cosa la voglio allargare a tutti i sexy shop. Ok. Nelle zone. Tutte quelle attività che vendono articoli per adulti e che hanno bisogno di utilizzare privacy, di avere privacy, scusami. E quindi dagli questo bot telegrammi in mano per fargli capire come funziona e dire cavoli, è vero, cioè, può essere utile per un cliente che vuole un articolo non a casa. E senza darmi dati, ovviamente. Molto interessante, perché qui riesci a coprire, come dire, a fornire un servizio, a coprire qualcosa che mancava, in un certo senso mancava, anche perché molte aziende sono resti a integrare bitcoin, a sbatterci la testa, queste cose qua, te invece dici, allora, sapete che c'è? Non dovete integrare nulla. Penso a tutto io, penso a tutto io, l'unica cosa che dovete fare è, niente, fare fare e girare la ruota, è come dire. Quindi questo è molto interessante. Esatto, ma soprattutto ti posso creare l'esigenza di utilizzare bitcoin, almeno che non è l'azienda, facciamo l'esempio del sexy shop, non è l'azienda che paga l'etichetta, ma se deve pagarla il cliente, comunque, deve per forza trovare una soluzione per pagarmi e non darmi dati, gli dico, ascolta, fai una transazione di 10 euro in bitcoin, ti spiego come funziona, e si crea anche un filo conduttore per cominciare a educare anche le persone in bitcoin, fagli capire, ecco, cosa può servire anche. Non è solo per la droga, non è solo per le armi, per i narcotrafficanti, no? Tutta questa gente cattiva, ma può essere anche per un qualcosa che ti può servire. Quindi vai a creare veramente un'utilità. Cioè, bitcoin non viene più divulgato, come al solito, meno male, no? Sui palchi per dire che cos'è, ma te lo faccio capire nella pratica a cosa serve. Hai trovato adesso l'utilità veramente anche per te? E voglio puntare su questo anche per il futuro. Ok, ok, molto interessante. Zio Satoshi, a questo punto ci hai spiegato tutto il servizio, a me sembra molto interessante. Quindi, prima di concludere questa intervista, ovviamente, immagino che te lo aspetti, io ho questa buona abitudine di fare una domanda. Di Rito, la domanda che arriva è questa. Qual è quella proprietà, quella sfumatura di bitcoin, quella particolarità di bitcoin che per te è la più significativa? Ti rispondo immediatamente che è la libertà, la sovranità proprio individuale dei miei soldi. non ho, non devo chiedere permesso a nessuno per utilizzare i miei euro, posso spedirli dove, come, a chi voglio, senza intermediari. Questa è la cosa, secondo me, più importante. Libertà, inclusione, direi, se proprio vogliamo anche allargare le cerche. Sì, non si mette in mezzo a nessuno, non si può mettere in mezzo a nessuno. Questa è sicuramente una delle caratteristiche più rilevanti di bitcoin, da cui poi derivano... Da un punto di vista umano. Più la parte umana di bitcoin che tecnologica, ecco. Sì, perché quella è... Il fatto di poter spedire anche dei soldi a persone che non hanno un conto corrente, no? Che non mi è mai capitato, per dirti, però è una cosa che per me è molto significativa da un punto di vista umano. E anche chi fa impresa per collegarmi, le persone che vanno a cercare i problemi, no? È tutto collegato. Io cerco i problemi perché voglio aiutare a risolverli. E quindi queste cose qua mi prendono molto da un punto di vista emotivo. Ecco, per detto, di bitcoin, bene o male. Ok. Ok, benissimo. Chi ti dice... Anzi, chi vuole usare Bitpost? Che magari l'ha scoperto con questa intervista, sperando che si sia registrata correttamente. Chi vuole usare Bitpost? Dove ti trova? Cosa deve fare? Come funziona per iniziare? Allora, per chi vuole utilizzare o solamente guardare il servizio, conoscerlo un attimo, basta andare su Telegram, scrivere Bitpost, usciranno fuori due pagine, perdonami, due canali. Uno è quello delle spedizioni e uno è quello degli acquisti. Perché ad ogni acquisto che fai viene legata una spedizione. Quindi puoi consultare i due gruppi che sono indipendenti l'un dall'altro per non fare un pasticcio unico, ovviamente, agli roboti di vivere. Per chi invece vuole chiedere qualcosa o qualche informazione, basta che mi scrivi in privato a Kioxola Zio Satoshi. Io rispondo a tutti sempre, trovo sempre il tempo per tutti nell'arco della giornata e scrivendomi, se non mi troveranno, ci sarà un messaggio già preimpostato dove ti rimando a tutti i canali. Nell'arco di quest'estate, quando ci sarà il sito, do anche già l'indirizzo, bene o male, che è www.bitpost.it. Da lì si potrà accedere a vedere il sito con tutti i regolamenti, tutto quello che ne consegue il classico sito. Ok, ok, perfetto. Zio Satoshi, io ti ringrazio della disponibilità e della chiacchierata e ci aggiorniamo al più presto. Grazie a te. Ciao. Va bene, assolutamente. Non vedo l'ora di darti novità. Ciao, ciao Fabio.